Benvenuti ragazzi sono sempre io e oggi siamo su Geometry Dash Retro Funk questa bellissima versione di Geometry Dash ok so sicuro che bestemmierò oggi siete pronti alle mie bestemmie e iniziamo in questa versione però abbiamo solo due livelli iniziamo col primo come avete visto questa versione di Geometry Dash in versione Retro ah iniziamo proprio bene ok ce la devo fare raga ce la devo fare perché c'è scritto facile c'è scritto facile e se un livello è facile io ce la faccio iniziamo bene speriamo di finirlo sto livello vai 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 ma che che non è possibile dai non voglio che appena iniziamo già faccio schifo oggi non sono in vena di bestemmiare perché mi volete far bestemmiare apriamo un attimo le finestre perché entreranno madonne che bello mi devo mettere con la concentrazione ce la devo fare anche se questo gioco mi manda un po il cervello in trip speriamo di non diventare cieco dai fammi avere una gioia porco demonio dai non è possibile oh dai dai la parte più difficile ora è porco demonio non riesco a vederlo quello è il problema cioè usate colori più visibili usate meno luminosità che cavolo pure io che salto in ritardo ora attenzione non salta è demente è demente madonna lo voglio prendere a colui che ha fatto sto gioco voglio ammazzare sono sadici coloro che vanno questi giochi venerà anzi a giocare non è possibile non è possibile non siamo nemmeno a metà livello no 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 non capita ancora quando devo saltare non riesco a l'avevo fatta raga io ho paura per il dopo perché questo è un livello di trip mentali assurdi madonna nooo non ci credo è la millesima volta che ricado in quel punto si mimetizza con lo sfondo non riesco proprio a capire una ceppa pure il lagmo ci vuole respira ce la puoi fare certo che no che non ce la posso fare maledette a voi questi colori di merda mi piace mi piace la donna no 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 non ce la farò mai la donna non so come cavolo ho fatto dai ho preso la skill raga ho preso la skill nei salti sono scordinatissimo dai che ce la possiamo fare ho imparato ho imparato raga almeno questa parte ora è questa che devo imparare porco demonio dai dai attenzione madonna è più difficile del previsto cioè sembra facile maledette a voi la prossima volta lo scrivete facile sul livello è difficile porco dio no come cavolo ho fatto io prima ciao 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 Madonna, è difficile raga Mamma mia, mamma mia Che prof... E' quel pezzo, è quel pezzo E' maledetto quel pezzo No, non ci credo, eh No, vabbè, il lag, no E' morto il gioco, raga Bene, mi è morto il gioco Oddio Ma perché, perché si è... Oh, ce l'abbiamo fatta Oh Riesco a fare un pezzo alla volta, cioè No, è da piangere Da piangere Ho il cretino il gioco, non lo so Non falta Ora sono curioso di vedere com'è il secondo livello Sono sicuro che è stra difficilissimo Già il primo Ma che... Ma che... Ok Ok Va bene raga Direi di chiudere qua questo video Spero che vi sia piaciuto Se vi lasciate un like Iscrivetevi al canale Mettete un piacere a Facebook Trovate i link In descrizione con altri social E niente Ci vediamo in un prossimo video Bella a tutti rag Ciao